Buongiorno. Parare Iiriau. Parare Iiriaua. Panasiniai, Paniaiai, Paratiai, Paratiai. Parare Iiriaua, Paratiai, 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 Paratiai. Pardanai, Paratiai. Andiamo, andiamo, andiamo. Gatti di con i piedi. Dai, dai, dai. Pusceriamo a mei, dai. metto uno skip di slalom e riesco con l'accelerazione l'accelerazione si può diventare un po' più forte dai 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 andiamo 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 calcio a fai gol rapido uno due posto e calcio dai rapido uno dai 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 posto giù 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 uno ok portiamola fuori dalla linea delle sagge portala fuori dalla linea delle sagge posto e calcio non ti fermi male standi a passo qui quando è standi a passo ok bravo calo uno uno e due bravo